notifica delle armi leggendari che ho raccolto nell'evento, un lol collettivo sono alla ricerca di un banco da lavoro, cosa che non c'è qui in questa location dopo l'evento che dovrei andare anche, oddio vi prego non mi rompete i coglioni, ok è vivo, è ancora vivo niente, oh io butto via la roba, intanto sono a 286, avrò un casino di armi che non mi servono a nulla, va a vedere quanti ce no si sono leggendarie armature, via, solito via, via, pazzarola, munizioni via, via, vada qui, tre missili, siamo già, quasi siamo vicini, queste via, via boia, quante cazzo non ho presi di munizione nuclei a fusione pesano troppo, butto via quelli più scarichi, come questo questo, intanto poi li faccio siamo a 266, butto via anche te ok ora vado passù mmmm Allora di Ashi Di Ashi No E di Ashi Quindi ora ci rio 30 Qui si scrappa tutto Si fa un bellissimo Modifica ripara Sul risolutore Penso che gli metterò la canna lunga Comunque perché così va bene Allora canna corta allineata Canna lunga Qui che cazzo mi manca? Ah vabbè credo non ho la carta equipaggiata Vabbè Questa qui cos'è? Velocità di mira Precisione senza prendere Precisione con mirino No 174 Oh oh Oblivion E due Bella fra Salve Canna lunga autentica Oblite ti ricordi per caso Come si buildava il risolutore qui? Chi è che sparava? Qui c'è un player Ah no era un Un povero ragazzo qui Parte del codice alfa F4 Bella fra Bella a tutti Un po' di pubblicità E nova Quanto c'è? 8 minuti Ma ieri sono entrato per caso Per vedere Palward Sulla live di Di Power Dio Cristo C'è stato tipo 3 minuti di pubblicità Peggio di buono di Italia 1 Veramente Oh ma Palward Poi l'hai garbato? Per curiosità Perché a me mi ha fatto stracà Senza offendere nessuno eh Cioè gusti su gusti Ma ti giuro Cioè io non so Se non ho Se non ho afferrato io il concetto Va allora Meno male Ah meno male Non mi fate senti solo Porca troia No ti giuro Ma più che altro Non ne capivo il senso Il senso di esistere Cioè ti ritrovi su questa cazzo di mappa Che poi il bioma è anche carino Cioè è vuoto Prima di tutto Cosa proprio che io odio nei giochi Il bioma Vuoto Primo di Privo di cose Di Di Boh Ogni tanto trovavi questi scrigni di merda Con dentro tipo Le speranze Perdute Del nostro Passato perduto E questi mostri Ciattolini Qui a giro per la mappa Se praticamente è come pokemon Cioè è pokemon Tarocco E Che vai a giro E Il pokemon che avrebbero dovuto fare Secondo me è questo E tutti Cioè E io ho sentito Conventi addirittura Che dicevano Eh no È un gioco Com'è che È un gioco Profondo Ma in che senso Scusatemi Che è un gioco È un gioco profondo Perdonatemi Per capire Un attimo Perché poi magari Non ci ho capito un cazzo io Io Sinceramente Tutta sta grande profondità E non ce l'ho trovata Boh Sarò io Coglione Non lo so Io boh Un gioco profondo Meno male Ma È da quando Boh Ho 5 anni 4 5 anni E già Io Evidentemente Non ci ho capito Un cazzo Stiamo parlando Di Palward Già dal nome Fa ride Palward Sì Dove si prendono i pali nel culo Si prendono Su Palward Sì È un gioco Di merda Che sta facendo Scalpore E sinceramente Non ne capisco il motivo Come se Wow Cioè nel senso Non abbiamo visto Un cazzo di gioco RPG Open world Dio Cristo Ce ne sono affraccate Cioè secondo me Sai qual è È che siamo talmente Tanto disperati No ormai che Giochi buoni Purtroppo per ora Non ci sono Che è uscita Sta cagata E Ovviamente Si è presa Si è preso un po' Il I I suoi spazi Sì Ovviamente C'è chi piace Giusto Tipo a te Giusto Allora io qui Allora l'acido l'ho preso Vorrei provare a fare Boh Vado a vedere se Oh ma qui c'è un evento Vado a fare Meditazione guidata Di merda Eh vedi Quante ore C'hai su Palward Io scommetto Che in questo momento Ti Stai Se Se non stai giocando O è perché Stai Lavorando O studiando Non lo so Che cosa fai Nella vita Dai Vuota il sacco Oh guarda questo Ciao Brock Sì Bravo Così ci piace Oh sì Ti mando un cuoricino Io Parlavo di palme Nel culo Ok ok Io bro Ma qui si può iniziare Questo cazzo Di evento O no No vabbè Ci ho giocato L'altra sera Allora L'altra sera L'altra settimana Ormai lontana Meno male Allora Inizialmente Dici Vabbè Se hai una sega Che che è Lo provi Anche se io Non lo volevo Già provare A prescindere Perché Avevo guardato Mi era bastato Guardare il trailer Proprio Arrivo Giovacci Dio Cristo Tempo di accende E già si parte male Perché Non Eri nell'open world Non c'era Non si sentiva Non c'era musica Il silenzio Il silenzio Silenzio Solo Sì sì Vabbè Tanto ormai Poi Io ci ho giocato Ci ho perso tempo Penso Un Maiala Dito ma Quanto ci avrò giocato Tre orette Quattro Addirittura Cioè ti rendi Onto Cioè Non mi dura Nemmeno una ragazza Tre o quattro ore Per di Tre quattro ore Su questo gioco Di merda E Strano Non lo comprendevo Inizialmente Un po' come Boh Un'analfabeta Che prova Che prova a leggere La divina commedia Una roba del genere Sono rientrato Dopo cena Evidentemente Mangiando Ho Riflettuto Porco due Ci arriva da giocare Dopo mezz'ora Faccio No ma per me Non ha senso un cazzo Sto gioco Disinstallato Subito Sul momento Ma perché Effettivamente Non ha senso Cioè Tu che cazzo Devi fare Devi andare a giro Su questa mappa Di merda A raccogliere Questi pori Animaletti Del cazzo Che oltretutto Puoi anche uccidere È un gioco Veramente È un gioco Veramente Ghiozzo Perché Te li schiavizzi Questi animalini Di merda Cioè capito Ed è una cosa Ed è una cosa Orrenda Tre minuti Di gioco E sei con la testa Schiaffata Sulla testiera Bravo Sì sì Uguale Bravo Esatto In quella maniera Lì Poi io Pazienza Zero Cioè Sono Sono molto Sono molto Come che cazzo Si dice Quando sei Quando pretendi Le cose Cioè Pretenzioso Cioè Da giochi Non lo so Ma annoia quasi tutto Deve essere proprio Tanta roba Per Per catturarmi E quello è banale Per i Per i ragazzini Ci sa E tutto Però basta Ora Ho scaricato Allora Oggi entro con Resident Evil 2 Lì C'è il remake Con un omaggio Resident Evil Sì che ho detto Vabbè dai fammi riprendere Un pochino Con Resident Evil E poi mi sono comprato Coso Ho seguito Il tuo consiglio Lì Con Me l'ha detto Te Di comprare O mi riordo Obli Di comprare Horizon Porco 2 Crashami Ora ti tiro Orpad Nel monitor Ho comprato Horizon Zero Dawn Che c'era 10 euri Ho detto Vabbè Era da tanto Che lo volevo giocare Come è da tanto Che vorrei giocare Coso The Last of Us Sì sì Lo porto live Lo porto live Sì sì Oggi Oggi alle 5 Inizio Faccio Cerco Non so quanto dura Ho letto che Dovrebbe durare 8-9 ore Provo a fare una maratona Scoppiammelo Ma dubito Che riuscirò Però Ci provo E domani sera Entro con Horizon Zero Dawn Che comunque Quello deve essere Non so se è impegnativo O meglio L'avete giocato voi raga? Bella Grande Così mi vedi Mi vedi Sartare sulla sedia Oddio Oddio Madonna santa Bello Quando scoppiano Tutti Io si mi garba Che spettacolo Che spettacolo E poi qualcuno Deve aver dato Il cestino Del pranzo E non me ne sono accorto Che bellezza Madonna Il vento Di vento Di vento Di manutenzione Di Eccoci Mi stanno attaccando Il coso Maremma Troia Oddio Spettacolo Bello De Vieni Waaah No non è la vecchiaia Non è la vecchiaia Obli Proprio zero Sono giochi di merda Che portano alla noia Dai Su Cioè Non Cioè Ragà Ma noi Non so Quanto è Teo bliccia E bene o male Quanto è me Cioè Siamo cresciuti Con roba Tipo la Cazzo ne so Skyrim Fallout Tutti questi Titoloni qua RPG No E comunque Cioè Dove cazzo esiste Oggigiorno Un gioco del genere Cioè Tutti ciò che sono usciti Ultimamente Hanno fatto Vomitar Cazzo O ci sono stati Problemi Cioè Avevano del potenziale E sono stati Incasinati Da Da Chi l'ha fatti O Cioè Ne è andata una per il verso Veramente Ma io non ci ho mai giocato Quindi fa un potere Ho solo visto giocare Hanno detto Che fa paura Il due Questo qui Cioè Che ti caghi addosso Parecchio Starò a vedere Mi è venuto a mente Un gioco Parlando di Resident Evil Che c'era Che c'era Praticamente Uscì Quando uscì La PS3 Che si chiamava Siren Blood Course Mi pare Ed era un gioco Peggio Peggio ansioso Cioè lì Quello lì Dovevi prendere L'anziolitici Che prendevi a padellate Questi Questi Queste sorta di Di zombie E non li potevi uccidere Cioè potevi Soltanto scappare Te lo ricordi? Quello era pesante Quello era serio Porco due Se quello era serio Il due è bello Eh L'hanno detto in diversi Si starà a vedere Io ti dico Smesso di seguire La saga di Sia i film Ti dico Di Resident Evil Dal secondo Se non sbaglio Quando c'è Il Nemesis Perché poi Ho iniziato A vedere Che era un po' Tutto una stronzata Cioè era Veramente trash Soprattutto Soprattutto i giochi L'ho trovato Molto Molto Trash Bella Bella Lore Si è finito Minchia Questi cazzi Eh e mo' Per scrappare Cioè mi Sapete se c'è Per caso Qui in questa location Un Un banco Per Per scrappare Raga Che io qui Sono piano Come Come il cucco Eh prova a far così Magari Magari Non te la segnala Anche se A me Mi sembra strano Io non so Da cosa possa Dipende Ma se non ti viene Proprio Segnato Nulla Bravo Sì allora Ascorta Te c'è qualcosa Prova a levare Tutto l'equipaggiamento Prova a levare Tutto l'equipaggiamento Che hai A spogliarti I talenti leggendari Sì ho messo Qualcosina Ho messo E vabbè Ciao Sto mettendo Perché Si apri ora Ho messo Questo Per ora E questo Ma ce ne sarebbero altre Da mettere Solo che le sblocchi Tipo io il prossimo La sblocco Al 100 Sì Ogni Penso ogni 25 livelli Se non sbaglio Una roba del genere Sì ma io devo scrappare Perché se no Non me ne vado da qui Però non ricordo Se dentro ci sta Un Un coso lì Un banco da lavoro Vabbè Qui però Mi rompe coglioni Butta tutto dentro Siad cazzo Marco 2 Anzi fammi scrivere Anche sul titolo Che dopo Entro con Resident Evil A così Boom Iscriviti 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 Bo Vabbè Ma E vieni su discord Lore Come dove guarda La build La guardia di pip boy E premi Se sei da po' Dipsilon Ci sono comandi sotto Le sfide Le sfide Meno ma la gamba Di un'aquila sanguinaria Quindi bisogna andare Di nuovo Qui a troncare il culo Alle aquile sanguinarie Poerine Oggi Gli ho lasciato Veramente Cazzo erano Eccola qui Il porcile Cazzo è vero Cazzo è vero Ma trasporto troppo peso Quanto Sti cazzi Io non so Come fa Allora Un tanto butto Dentro le Le armi leggendari Che non uso Tipo questo Tipo questo schifo Tipo questa merda Chissà quanto Poi Quanto pesavano Questa è leggendaria Leggendaria Tutto ciò 266 Vedi E poi Ci avrò sicuramente Anche tutte le munizioni Brutte No Scherzo Nucleo a fusione Ancora 300 Butto via Le altre armi Armi Questo via E Ok 260 Ora vado Un attimo al camp Perché almeno Scrappo tutto Ma adesso Sono veramente curioso Di vedere Che cazzo Com'è Com'è questo Resident Evil Ah non può parlare Ok Easy No No Tutti i materiali via Questa merda qui Che non so che cazzo serva Via tutti i materiali Le armi ce le ho già tirate dentro Giusto Cioè a me mi stavano attaccando questo Porco troio Mentre ero lì All'evento Che devi fare Ora l'ore? Non ho capito Eccoli eccoli i bastardi Ho messo due torrette Nel dubbio Ho detto mettiamone qualcuna Per meno Non si rischia Bestia Guardate che casino Che casino Merda E vabbè Pidiamo tutte Tanto c'è il banco qui Mi? O te? Com'è che sei lì? Mamma mia Ciao 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 Ma che cazzo è questa roba di che lo sta bandierina mi appare Ok, va bene Grazie a tutti. Bella lori anche a me quando mi vedi comunque scrivimi almeno entri qui almeno si fa di chiacchere Dai su raga venite un po' dio buono che palle oh mi tocca andare in corra a me Dai su Oh sti cazzi Tunnel dell'amore ma che cazzo Ehi bordalo questo chi ha Finito Finalmente Oh Wow Che bella questa ricompensa si E' veramente bellissima Ora vado al camp Un po' Dunque Ho l'acido il piombo Quindi Polvere da sparo Almeno Facciamo così Super duper Boomfu Creatore di munizioni Eh Muni No Munizioni 45 Che mi manca? Il piombo Ah mi manca il piombo Lol Vedi Proie della merda Fusione Non ho piombo Non ho piombo Perfetto Quindi posso anche andare a fanculo Qui Bunfu Qui Parneficino Parneficino Io qui c'ho punti Non in uso Ma scusa Aspetto Ora non mi ricordo Su intelligenza Punti non in uso Quattro Quattro Ma per ora Io potrei Levar questi punti qua E metterli di qua Perché almeno Potrei mettere Sì adrenalina Perché Che tre Tre Sei Parco due Tutte le volte Mi sbaglio Allora Uomo d'azione A tre Evasivo A tre Versaglio mobile A uno Bunfu A tre Poi c'è Adrenalina All'uno E sfuggente Al tre Quindi mi servono Altri quattro punti Che per ora Vi fosse Le valdivolo Di qui Sì Quattro punti Mi posso Le valdare Cazzo Da qui Proprio E li mettono Agilità Ci manco Questo E questo Ok Poi Ho Tredici Infortuna Mi manca Qualcosa Psicopatico Mostro di Bravura 1 2 3 4 5 Geni robusti Mostro di Bravura Fortuna Sfacciata Ce l'ho Critici Migliorati Ecco Critici Migliorati Questi Colpi Critici Con lo Spag Infliggono Più 50 E questi Questi Sono Tutte Ora Devo Solo Potenzia Potenziarle Poi Qui c'è Su Carisma Io Ponte di Ispirazione Che batti Carni Deve Saltre Bomba nucleare In arrivo Questo Guarditore Filantropo Questa Roba Qui Via Basciato Dal sole Via Questo Ok Qui Farmacista Via Sì E Qui Ok E qui Ok Morte Dall'alto Si va Si va A me Mi servirebbero Prima Tanto mancano Due minuti Vado un attimo Quaggiù A vedere se Trovo Del piombo Prima Di tutto Dall'alto 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 Porco Due C'è Ma una volta Che lo becco Ok Porca Troia Nemmeno qui Va proprio male Non c'è nulla a fa Vabbè Io l'altra location L'ho rimosse Non mi ricordo minimamente Dove posso trovare Il piombo So che il piombo Si poteva trovare Ne silo Però io il silo Ancora non ci posso accedere Purtroppo Vabbè Vado a fare la regina Ripperoni 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 Eccola Dov'è Eccola Eccola Che bellezza Madonna Ok E per me Qui È finita così Cavaliere moreno Ha Nessuno Cavaliere moreno Ha Nessuno Cavaliere moreno Grande Cazzo Chi è che l'ha buttato Lui Yo Bitch E vai Dove sta il coso Questa Yo Bello Yo Mi sa che sarà lunga Sta qui Ho tirato una slaggata Dal record C'era un'altra bestia Ciao 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 E' fatto Allora si va Fammi pensare Allora l'oro l'ho scoppiato tutto Quindi ora potrei andare qua su Allora si Oh ma che è Mi si è bloccato lì Mi serve il piombo Ma rimma troia dove cazzo lo prendo il piombo Provo a andare lì dai Provo a andare a vedere Fammi vedere qua Ci sono le mappe interattive Eccola qui Allora 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 a me mi interessa Oddio che ho fatto Iron lead Oddio qual'era ora Silver e uranium Non so a che serve il crystal Acid Come si dice il piombo in inglese Dio crystal Ah il lead Ok Andiamo magari in una parte dove ce n'è Non c'è una parte dove ce n'è Va bene Allora si va Si prova ad andare qui E qui c'è direttamente la materia Quella Il materiale Il materiale grezzo Che sarebbe qui Oioioio Ok Segno il punto No Non voglio il viaggio rapido Mi fai fare con il mouse Questo Perché Non gli piace Dunque dovrebbe essere Qui Giusto No Scherzo All'incirca Da un male Un male Che Un male Quas Quas Cherzo 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 Eccolo Eccolo Ok Cioè era tutto qui C'è solo sta merda Una venatura e basta Ma però Poi Altro posto E più a est Tipo qui Eccolo C'è troppo lag Non è che è qui Vedo che c'è l'aggeggio Oh ma quante sono Minchia Eccolo qui Piombo Distrai Oh avete rotto il cazzo Ah però Eh sti gran cazzi Poi l'altra È più a sud Che è esattamente Nel boschettino qui Tipo Qui Posta Sì vabbè ci vado a piatti Oddio Che ora C'ho due punti Ok ecco se la qua qui si è fatto poi ancora più a sud sotto qui largo un po' almeno qui poi si è finito ci sta allora più a sud qui esattamente qua questo che sarebbe questo è alluminio eccolo qui oddio dai chiombo poi il tuo coglione di cammino c'è qualche location ce ne sono altre ma guarda questo c'è il camp proprio posizionato dove è il piombo che fa ehi boia che coglione viaggio rapido dio che duro ciao ciao Grazie a tutti Poi vede che questo ci ha costruito direttamente il camp sopra Non ci credo Un po' inoltre qui Non ci credo Ah sono già arrivato Non so dove Andiamo Allora No non è qui cazzo Eh si oddio È qui però è dietro di me Magari è sotto Ah no eccole Oh questo è alluminio Alluminio E ci sta tutto alluminio Quindi il piumbo dove cazzo sta Eccolo No è carbone Carbone Io questa non la trovo Eccolo Un po' inoltre qui Eccolo Grazie a tutti Quella qui C'è un cazzo Poi l'altra è più a sud Ok 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 Allora lavo sfuggente Metto Un'azioni Tolgo Carneficino Metto Super duper Ora voglio vedere Quanta polvere da sparò Il problema è sempre il piombo Ovviamente Io faccio una mega sessione massiva proprio sai da proprio da spaccacci si sul farming Sfuggente Carneficino Ok 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 Ok